Qui va! Pensavo, se 5 più 5 fa 10, 10 più 10 fa... Mancano 20 giorni al debut del 3D e al terzo anniversario come videover! Pensavi che non lo dicessi, vero? E invece ti sbagli, mio caro Pixel! Mancano 20 giorni all'evento dell'angelo virtuale pazzo più pazzo che ci sia! 20 giorni, 20 ottobre, alle ore... 21! Pensavi dicessi 20? No no! Alle ore 21! Ci sarà poi mezz'ora di start e poi... Si inizia col caos! Ti aspetto! Wow!